Nel 1999 si diploma alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, diretta da Giorgio Streler e poi da Luca Ronconi, dopo alcuni anni di teatro, lavorando anche con registi come Elio De Capitani e Massimo Castri. Nel 2004 debutta nel cinema con Dopo Mezzanotte, per la regia di Davide Ferrario, e nel 2005 è protagonista del film L'Uomo Perfetto di Luca Lucini. Recita in piccoli ruoli anche nella Bestia nel Cuore. Film di Cristina Comencini candidato all'Oscar. E in N, Io e Napoleone, 2006, di Paolo Virzi, si è fatta conoscere presso il grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla serie televisiva. Di Canale 5 Distretto di Polizia. Interpretando nelle stagioni 6, 7 e 8, 2006, 2008. Il ruolo dell'ispettore Irene Valli. Tra il 2008 e il 2011 appare su Rai 1 nella serie televisiva Tutti pazzi per amore. Dove interpreta il ruolo di Maya. Nel 2009 torna sul grande schermo con quattro film. Io, Don Giovanni, Questione di Cuore, Generazione 1000 Euro e il richiamo. Nel 2011 appare nel video di Max Ezzali Il mio secondo tempo. E nel 2012 nel video di Francesco Renga La tua bellezza. Presentati al 61esimo e al 62 Festival di Sanremo. Ed è nel cast di Noi credevamo. Regia di Mario Martone. Presentato nello stesso anno alla Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del Nastro d'Argento. Come film dell'anno ed i sette David di Donatello. Tra cui, Miglior Film.